Siamo ancora come vedete alla mia sinistra con un esponente della misericordia, un esponente che dicevamo prima a microfoni spenti è da tanto che ormai indossa questa tuta diventata una ragione di vita. Siamo con Vittorio, 12 anni in misericordia, quindi davvero un senior di questa attività, di questa associazione. Vittorio vedremo la simulazione di un arresto cardiaco, come bisogna intervenire il primo soccorso e lo vediamo fare tra l'altro da due ragazzi, uno dei quali è davvero giovanissimo. Allora Vittorio man mano che ci sarà questa simulazione ci spiegherà che cosa sta avvenendo, possiamo partire allora? Allora prima di tutto c'è da dire perché abbiamo scelto di fare questo scenario, che è per cercare di far capire agli altri che un arresto cardiaco può essere trattato con manovre molto molto semplici. Che cosa succede quando c'è un arresto? Un cuore che normalmente ha un battito cerca di spingere il sangue in tutti i distretti corporei, quando il cuore non ha più un battito regolare ovviamente il sangue non riesce ad arrivare nei tessuti, soprattutto al cervello che risente quindi dei primi danni. I tempi che abbiamo per intervenire sono molto ristritti, è stato calcolato infatti che in circa 4 minuti iniziano a manifestarsi i primi danni, dopo 10 minuti le lesioni che ci sono sono irreversibili. Controlleranno adesso per 10 secondi la presenza di atti respiratori. Gli atti respiratori possono essere controllati guardando il sollevamento del torace o con la cosiddetta manovra gas, guardo, se il torace si alza o si abbassa, ascolto il rumore dell'aria, sento la presenza dell'aria sulla mia guancia, tutto ciò avvicinando la testa alla testa del paziente, è un acronimo. Il massaggio deve essere fatto schiacciando il torace della vittima di 5, massimo 6 centimetri, con un ritmo di 100-120 compressioni al minuto, quindi deve essere un ritmo abbastanza rapido, con una bella forza, come dicono gli americani, push hard and fast, cioè premi forte e veloce. Quei men, volendo paraprasare, è come se fossimo noi il cura del nostro paziente dall'esterno.